Giro d'Italia, pochi minuti al via di una nuova tappa, siamo con Davide Ballerini. Davide come stai? Tutto sommato bene, fortunatamente non ho avuto nulla dopo la caduta della prima tappa. Siamo riusciti a vincere con Kappa nella terza tappa, speriamo di riuscirci ancora, siamo molto convinti di potercela a fare, io sono molto convinto che ce la può fare e andiamo avanti così. Ti abbiamo visto appunto nella terza tappa essere uno degli artefici del successo di Mark, ma a livello personale, prima di tutto come stai, come sei arrivato a questo giro, come condizioni? Dopo un inizio di stagione molto trambustato, sto fortunatamente ritrovando la condizione di giorni migliori, piano piano sto sempre migliorando e vediamo, magari riuscirai a toglierci qualche soddisfazione. Corri e correrai ovviamente, correrete per Mark e per le volate, però appunto riuscirai magari a toglierti qualche bella soddisfazione, c'è una tappa in particolare Davide che hai puntato? Ma di prima verità non ho guardato, magari anche oggi potrebbe essere possibile, ma si vedrà, si vedrà la strada facendo e vediamo. Ultimissima domanda, come continuerà poi la tua stagione dopo il Giro d'Italia? Hai già qualche idea? Non lo so ne ancora, guarda ho deciso di concentrarmi su questo giro, poi dopo a fine giro tiriamo le somme e decideremo, è sicuro l'italiano. E poi si, l'arica di Bramati ti sta chiamando, bisogna partire, allora buon giro e buona tappa. Ciao Davide, grazie, ciao.